Adesso impari a Edoardo Locci, fotografo di noi in Arroli. Edoardo, contasi che alcuna cosa di questa professione che fai tu? Su fotografo in Arroli. Allora, adesso fotografo, adesso il 2001, più o meno, che ha poverto satisfitare. Però ora è veramente difficile da fare su fotografo. Poi, con questa crisi che non è l'ompio, ormai fai tutto il fotografo. E adesso è il fotografo, sapete? E se non ci chiede l'idea, deve fare altre cose, puoi fare effetti su fotografo, poco io, o altre cose, non si può fare più. Ma noi in Arroli tu fotografai si sporta, ma fotografai questa cultura e c'è tutto, o no? Pronto questa cultura, che si sporta. Contasi che alcuna cosa di Arroli e del suo territorio, vedo? Su territorio di Arroli, questa cosa molto importante che abbiamo su territorio è una ragione a Lugia, che secondo me è una ragione molto importante della Sardegna. Te conosci bene questa Sardegna? Abbastanza. Contasi che alcun luogo che conosci e che ha fotografato? Sardegna. Ma non abbiamo dei drogi per perdere, secondo me sai da mia e tutto. E Arroli. Sardegna. 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 Sardegna.